In particolar modo l'assessorato è attento non soltanto a quelle che sono le politiche a tutela dei minori ma anche a tutte le politiche in genere che sono volte alla tutela della famiglia e in questo senso ci sembrava che il progetto che ci è stato proposto dall'associazione del territorio NEON fosse rispondente un po' a tutti questi requisiti che sono il fulcro della politica dell'assessorato. Giova a ricordare a questo proposito che l'amministrazione provinciale ha partecipato alla realizzazione di questo importante acquisto mettendo in campo 4.000 euro, questi 4.000 euro visti i tempi, passatemi il termine, di vacche magre sono comunque una testimonianza forte di quanto ci si sia creduto in questo progetto che siamo contenti a questo punto di sapere realizzato e di sapere che già sta operando e già ha dato dei frutti.